Ciao a tutti ragazzi, ho appena finito di vedere la conferenza stampa di Fabio Paratici e Andrea Agnelli. Ci sono diverse cose da dire, diversi argomenti di cui parlare. È stata secondo me una conferenza stampa impeccabile e ricca di contenuto, e quindi è di questo che andremo a parlare. Non so se l'abbiate vista, eventualmente vi consiglio di recuperarla, perché io ho preso le cose che a primo ascolto mi hanno colpito di più, e mi sono rimaste più impresse, ed è di questo che andremo a parlare. Prima di iniziare ovviamente vi invito a mettere like al video, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e mi devo anche muovere a fare sto video perché poi ragazzi devo andare dal barbiere. Allora, 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 iniziamo subito con la premessa che ha fatto Andrea Agnelli a inizio conferenza stampa. Ha fatto benissimo a fare questa premessa molto lunga per quanto riguarda l'UEFA, la Superlega, eccetera, perché altrimenti qualsiasi domanda sarebbe stata indirizzata più su quell'argomento che non sulla esperienza di Fabio Paratici alla Juventus. Per cui una premessa, una prefazione così importante su questo argomento, che spiega determinate cose dal nostro punto di vista, soprattutto dopo il lungo silenzio di Andrea Agnelli sulla vicenda, beh, serviva, serviva per dare poi il focus completamente sugli undici anni di Fabio Paratici alla Juventus, sui rimpianti, su tutta la sua esperienza. Anche qua Agnelli, ragazzi, ha lanciato dei bomboni, secondo me, giganti all'UEFA. L'ho fatto entrando nel merito del discorso, senza essere permaloso, con una certa classe. Ha parlato, insomma, di problemi, stiamo andando verso l'insolvenza, è così che pensano anche tanti altri club. L'UEFA ha cercato di, insomma, intimorire i presidenti degli altri club, di fare delle pressioni da quel punto di vista, usando il momento anche di difficoltà come mezzo per rinstaurare nella testa dei presidenti degli altri club un po' di paura, perché ovviamente la Champions è anche fonte di guadagno, tanto guadagno attualmente. Per cui è nata questa problematica qua. Agnelli si è, si è detto, insomma, soddisfatto della proposta della Superdeca come grido d'allarme, come grido d'aiuto da rifare all'UEFA, al FIFA, come, insomma, competizione per cercare di creare un dialogo fitto sul rinnovamento del calcio, soprattutto a livello economico, sulla sostenibilità del calcio nel medio e lungo periodo. Non ha parlato ovviamente solo di quello, ha parlato anche del fatto che l'UEFA è monopolistico come sistema di creazione delle competizioni, ha potere esecutivo, legislativo e giudiziario al suo interno e per cui reputa la questione un po' da rivedere su ogni punto di vista, dal punto di vista dei poteri, dal punto di vista dello spostamento economico di tutte le questioni, eccetera. Anche credo sulla divisione del rischio, insomma, d'impresa, perché l'UEFA non rischia una mazza, rischia solamente i club, ecco, dal punto di vista monetario. Ed è questo, questo è l'argomento, la molla che spinge i club a ragionare su altre forme di competizioni, eccetera. E quindi Agnelli ha parlato molto bene, comunque si è reso disponibile al dialogo nonostante Ceferin, nonostante le minacce di Ceferin e dell'UEFA, insomma, lui ha dato massima disponibilità, massima disponibilità a continuare a dialogare, a trattare sul futuro, eccetera. Ora, sapete già che è stato aperto un percorso disciplinare, eccetera, la Juventus con Real Madrid e Barcellona, i tre club si sono rifati alla Corte di Giustizia Europea, aspettiamo il risponso, ne abbiamo già parlato in passato di questa vicenda e per cui è tutto in sospeso ancora la questione. C'è il Napoli che freme, freme, brama, insomma, l'ingresso in Champions League al posto della Juventus, difficilmente questo avverrà perché ci saranno tutti quei sistemi di tutela per gli imputati, per gli accusati, cioè Juventus, Real e Barcellona, a tutela, quindi, delle sospensioni di pene, perché è così fino a giusto processo e fino, ovviamente, all'analisi chiara di tutta la vicenda. Quindi questa è stata l'introduzione bomboni di Andrea Agnelli e io ogni volta che lo sento parlare rimango, ovviamente, a bocca aperta. è un luminare, è un pioniere, è un rivoluzionario e a me piace, che vi devo dire. Sarà antipatico a tanti, ma, insomma, chi innova si crea delle antipatie in ogni contesto. Per quanto riguarda Fabio Parati c'è stato molto commovente, toccante il suo tono di voce, molto debole, debole nel senso che si sentivano, era la parlata di chi stava per piangere dalla commozione, da chi era veramente provato, si è interrotto, infatti, a più riprese durante l'intervista, le domande, devo dire, sono state abbastanza pertinenti, mi è piaciuto, il tatto che è stato utilizzato dai giornalisti, credo anche istruiti a dovere da parte della società su ciò che si doveva, anche in questione di scomode, è stata toccata la questione di Dybala-Lukaku, che è di grande attualità, naturalmente, visto che Dybala ha ancora un contratto con la Juve, ma in scadenza, si è parlato di Van Persi, si è parlato, che è stato il grande rimpianto del Presidente Agnelli, ma anche, a quanto pare, di Fabio Paratici per il precorso, che ha portato la Juventus a cercare di prendere questo ragazzo, è stata una bella conferenza ricca di contenuto, dove Paratici ha parlato di questi anni, di cosa significa lavorare alla Juventus, di come ti cambia, addirittura dice, guardate ragazzi che tutta la troupe che ci ha seguito di Amazon per fare all or nothing per quanto riguarda la Juventus, ha capito cosa significa lavorare alla Juventus, per la dedizione che ci si mette all'interno, i primi giorni, quella mangiata in trattoria col Presidente Agnelli, Marotta, il rapporto con Marotta, che però non è stato molto approfondito, soprattutto nella separazione tra Juventus e Marotta, là non è stato toccato il discorso, Fabio Paratici ha parlato di Dybala, di quando è stato preso Dybala, dei rischi, di Ronaldo, di come è stata la trattativa con Ronaldo, con Real Madrid, sono stati veramente circa 40 minuti di conferenza stampa godibilissima, anche da parte di chi urla Paratici out e non ascolta, perché per dire Paratici out bisogna entrare tanto nei discorsi, capire bene le dinamiche e ovviamente dal nostro punto di vista avremo sempre una parte cieca su tutto ciò che succede lì alla Continassa e nei muri della Continassa. Però grande rispetto per la persona Fabio Paratici, grande rispetto anche per il professionista perché secondo me ha fatto delle ottime cose, delle ottime trovate, degli ottimi colpi, per cui è stato bello condividere questo percorso con Fabio Paratici, è al di là di qualsiasi scelta sbagliata, perché poi come ha detto lui ragazzi, alla Juventus prendi anche 10 decisioni al giorno, è bravo chi ne sbaglia meno, perché è difficile non sbagliarne nemmeno una, poi si può non decidere ma a quel punto non si cresce, non si migliora mai, ha ragione in questo, in grandi società quando devi prendere tante decisioni, quando sei a capo dell'area sportiva e gestisci tutto, ogni livello è un bel casino, è un bel casino, comunque che dire ragazzi, bella conferenza, aspetto le vostre opinioni sotto nei commenti, occhio alla questione Pianic che stanno calcando molto la mano secondo me in media, in maniera un po' esagerata, oggi erano lì, adesso Pianic è più vicino, è uscito un articolo, ora non dite cazzate, che dire signori, questo è tutto, ora vado dal Barbieri che mi sta aspettando, ciao, ciao belli.